Lunedì 20 e martedì 21 dicembre 2021 si è svolta la Farnesina, la quattordicesima conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia nel mondo, in presenza dopo due anni, ben due anni, Mike, che l'evento si faceva ovviamente da remoto. Titolo dell'edizione 2021, Ripartire insieme, il contributo della politica estera ed europea all'Italia alla trasformazione del sistema internazionale. Sono intervenuti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio dei Ministeri Mario Draghi e il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio. Esatto Gigi, e noi di Patrimonio Italiano TV abbiamo seguito dal vivo la conferenza, un appuntamento di confronto e riflessione sull'azione internazionale del nostro paese, che coinvolge i capi missione e vertici dell'amministrazione MAECI. È nata nel 1998 sull'esempio di analoghe iniziative di altri paesi europei e non, e a partire dal 2004 si è scelto di intitolare la conferenza a un tema specifico che indirizzasse lo svolgimento dei lavori. Erano cento i capi delle missioni diplomatiche dell'Italia nel mondo presenti, un'occasione di confronto e riflessione affinché il Ministero, grazie alla sua vastissima rete diplomatica, possa rappresentare sempre di più un valore aggiunto per la sicurezza e la crescita di tutto il sistema paese. I lavori della conferenza si sono snodati tra l'impegno della diplomazia italiana su temi come l'evoluzione degli assetti geopolitici nel mondo dopo la pandemia, il ruolo delle donne in diplomazia, il contributo italiano nelle risposte e nelle sfide globali, la farnesina al servizio della ripresa e dell'immagine dell'Italia. Ma, Mike, io andrei a vedere e ascoltare proprio gli interventi principali. A inizio la quattordicesima conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia nel mondo. Nel volgere lo sguardo ai sette anni passati non posso non rilevare come l'attività internazionale che li ha caratterizzati non sarebbe stata possibile senza l'efficiente supporto del Ministero degli Esteri, nonché dell'intera rete diplomatico consolare. Non mi sarebbe stato possibile porre in essere e sviluppare positive interlocuzioni e condizioni collaborative senza la disponibilità, il sostegno, le indicazioni che da voi ho ricevuto. Consentitemi infine, in questa ultima occasione in cui posso rivolgermi alla vostra comunità, di esprimere a tutti voi e alle vostre famiglie fervi di auguri per il Natale, per il nuovo anno e per il futuro. La conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici torna in presenza alla Farnesina dopo oltre due anni. Un lasso temporale caratterizzato dall'irruzione della pandemia nelle nostre vite, come nelle relazioni internazionali, ma anche due anni che hanno visto l'Italia al centro dei più importanti eventi multilaterali. La diffusione del virus ha ricordato a tutti che oggi ci troviamo di fronte ad uno scenario globale segnato da tratti sempre più incerti, inattesi e imprevedibili. Le relazioni internazionali non sono più soltanto una scacchiera statica dove gli stati sovrani cooperano o si confrontano, protetti dai loro confini. Per navigare in questo scenario in rapida evoluzione la diplomazia resta uno strumento essenziale. Ringrazio tutti voi per il lavoro che svolgete oggigiorno con professionalità, dedizione e senso dello Stato, al servizio delle istituzioni, delle realtà produttive, della società civile, soprattutto a servizio di tutti, tutti i cittadini. Voglio ricordare il vostro collega, l'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso brutalmente nella Repubblica Democratica del Congo, con il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustafa Milambo. Gli ultimi due anni sono stati difficili per il nostro Paese, come per il resto del mondo. Mi riferisco ovviamente alla pandemia e alla crisi economica. Entrambe hanno colpito, specialmente i più deboli. Ma in questi mesi l'Italia ha dimostrato ancora una volta di saper reagire alle crisi più dure con coraggio, determinazione e unità.